Pronto? Avete due casse indirizzate alla casa degli orrori Dugal? Che numero di polizia? Non ha importanza. Stanotte qui fa luna piena. Non ho molto tempo. State a sentire. Mi sto imbarcando per l'America. Fino al mio arrivo non consegnate a nessuno quelle due casse per nessun motivo. Avete capito bene? Dica signore, mi fa sentire i gargarismi da Londra? Ehi, se non fa allontanare il suo cane io non la sento, sa? E ti spreca una telefonata da Londra per far sentire il suo cane a me? Altro che cane, ma questo è un branco di lupi. Roba da male.